In questa puntata di Babele avremmo potuto parlare ampiamente di un certo Franco Fiorito, ovvero uno dei tanti, anzi dei troppi truffaldini della nostra politica italiana, quei tantissimi Fiorito che nel nostro Paese sono diventati l'archetipo della cafonaggine, l'archetipo della celtroneria e soprattutto l'archetipo del degrado morale. Ma cari amici, anziché parlare dei Fiorito della politica, oggi preferiamo parlare dei Fiori nell'arte, è meglio così. Infatti, al contrario dei Fioriti del nostro Paese, i Fiori nell'arte sono il simbolo di pensieri alti, sono il simbolo della bellezza universale, così come nella Primavera di Botticelli, nella quale i Fiori si innalzano a pura metafora di rinascita umana e di nascimento a nuova vita sociale e culturale. Anche di vita parlano i girasoli di Vincent van Gogh, girasoli che portano luce e illuminano l'anima avvolta dal buio e dal profondo dolore umano. Invece, la rosa di Salvatore Dalì è chiara metafora di sensualità, tutta femminile, rosa-rossa profumata, sole infuocato, che sorge all'alba di un cielo carnale. Di bellezza femminile, eppure l'opera del pittore Alma Tadema, ma qui il fiore è puro simbolo di bellezza romantica, segno di una femminilità eterea ed impalpabile. Mentre in Renato Guttuso, questi fiori diventano esplosioni di colori forti e folli e si fanno racconto poetico di una terra chiamata Sicilia. Cari telespettatori, oggi è stato meglio parlare di fiori nell'arte e di bellezza, ma diciamolo pure con forza, sono meglio i fiori nell'arte che i fiorito nella politica. Alla prossima!